Benvenuti a Corti e Tosoni, io sono Luca e oggi in collaborazione con La Voce di Mantua per la rubrica di Il mio cane è felice, andiamo ad analizzare alcune razze del terzo gruppo della categorizzazione Enci, i Terrier. Nello specifico andremo a parlare dei Jack Russell, dei Fox Terrier, dei Parson e dei Jack Terrier. Allora, un po' di storia. La prima selezione avvenne da parte del reverendo Russell nella coltera di Devon in Inghilterra. Lo scopo della razza era quello, come sappiamo, come abbiamo visto nel 17-7 nella visione generale dei terrier, è quella appunto di cacciare cani, di cacciare quello che viene definito il nocivo, ovvero il nocivo nelle campagne, ovvero tassi, topi, volpi, questo genere di animali. Ecco, si presume che si siano state utilizzate per la selezione di questa razza Beagle, Bulldog inglesi, Fox, appunto Terrier e altri. Chi è il Jack Russell? Il Jack Russell è una razza molto, cioè di piccola stazza, molto agile, pieno di energie, che appunto è molto, essendo molto dinamica e attiva, è ideale, insomma, per chi vuole cimentarsi in attività come l'agility, discdog e quant'altro. Allora, per chi è adatta questa razza? Questa razza bisogna, che siamo consapevoli, che non è una razza semplice. Nessuna razza è semplice, ma ce ne sono più semplici di altre. Un Jack Russell, o un Terrier in generale, un Fox Terrier, tutti gli altri, non è che siano semplici un New Yorkshire Terrier, non è che siano semplici da gestire perché sono piccoli. Molto spesso, infatti, vengono da noi un sacco di persone in educazione che hanno una serie di problemi che ora andiamo a spiegare. Allora, ci viene proposta la criticità del fatto che questi cani siano iperattivi. In realtà non è una, chiaro, sto parlando del cane medio e della situazione ordinaria. Ci sono casi patologici, ma ordinariamente il 95% dei casi che noi affrontiamo è un cane semplicemente dall'energia inesauribile, che è assolutamente da standard. È una cosa caratteristica del tipo di cane. Il cane è piccolo, il cane ci mette poca energia nel muoversi e nello spostarsi e quindi il cane si muove tanto. È proprio una cosa lineare. Questi cani sono testaldi, ci viene detto e proposto come problematicità. Ecco, questa caratteristica della testardaggine viene faintesa, voglio dire, non sono dei cani che devono cedere. Sono stati creati per entrare nelle tane e fare cadavere del proprietario di casa, cioè del tasso, della volpe, del topo, eccetera. Quindi non può essere un cane che al primo problema retrocede e questo li rende equivoca, li equivoca, questa caratteristica loro, l'equivoca per testardi. Sono cani che sono stati selezionati per quello e quindi molto spesso, tra l'altro, risultano essere anche, non per problematiche loro, però risultano essere litigiosi proprio perché la litigiosi con altri cani, perché la prosocialità non è assolutamente tra le priorità della loro selezione, appunto. Quindi c'è una poca docilità perché non serve che, nella selezione, torno a ripetere, non serve che l'umano dia direzioni o indicazioni al cane riguardo a quello che deve o non deve fare, proprio perché la memoria di razza, il software, se vogliamo, semplifico, ok? Cerco di semplificare. Il software che ha in testa gli spiega, lo porta in automatico, non in automatico, lo porta, lo predispone a, sulla base delle motivazioni, predisposizioni e quant'altro, tutte cose che abbiamo già visto nelle puntate precedenti, lo porta a comportarsi, ad atteggiarsi in un certo modo a fonte di certi stimoli. Benissimo. C'è una poca docilità, non c'è niente di patologico, quindi in questi tipi di atteggiamenti. Questo per quanto riguarda appunto il Jack Russell Terrier e chi può essere un proprietario adeguato per questi cani. Il Fox Terrier. Il Fox Terrier è un cane che fondamentalmente ha un doppio standard, è una razza di cane che ha un doppio standard, quello dello Smooth Fox Terrier e il Wire Fox Terrier, se ha appunto il pelo liscio e il pelo ruvido. Ci sono due standard, due razze diverse, due razze con due standard diversi che differenziano solamente ed esclusivamente per la tipologia di pelo. Questo cane fu portato in auge da Re Edoardo VII nel Regno Unito a suo tempo, che appunto lo fece diventare abbastanza di moda all'epoca. Per quanto riguarda chi è adeguato, cioè chi è il proprietario adeguato per questo genere di cani, sono esattamente quelli del Jack Russell Terrier. Ora passiamo al Parson Russell Terrier. Il Parson, che appunto anch'essa è stata creata dal reverendo Russell per gli stessi scopi del Jack Russell, è molto meno conosciuta come razza rispetto al Jack, il Parson è meno conosciuto rispetto al Jack Russell, e succede che è stato riconosciuto come cani di razza solamente dall'FC, quindi Enci, solamente nel 2000. e le caratteristiche di questo cane sono molto simili a quelle del Jack Russell, ovviamente, bensì, però questo cane ha una dotazione di tempra, cioè di solidità caratteriale maggiore. Perché? Perché questo cane era impiegato e utilizzato anche per la caccia ai cinghiali. E quindi, per chi è adatto a questa razza, vale tutto quello detto prima per i Jack Russell e per i Fox Terrier, però con la consapevolezza che la tempra di questo cane è maggiore. Quindi tutti i problemi, problemi, tutte le criticità che posso aver riscontrato, che potrei riscontrare con un Jack Russell quanto ha interazione con altri cani, bene, qui ce l'ho maggiori perché è un cane con una tempra più alta. e voglio specificare che non sto dicendo che questi cani sono cani fuori di testa, ok? Cioè sto dicendo che nella media, nello standard, questi cani sono meno socievoli rispetto ad altre razze nei confronti di con specifici. e questo è indiscutibile e questo è indiscutibile ecco. Jack Terrier, Deutsche Jack Terrier. La storia di questi cani è fondamentalmente la seguente. i tedeschi, cioè dopo la prima guerra mondiale, un gruppo di cacciatori si staccò appunto dal Fox Terrier Club per creare una razza adeguata e specifica solo per il discorso venatorio. e fu fondato appunto questo club nel 1926 e i fondatori appunto crearono il Deutsche Jack Terrier attraverso incursi tra Wired Terrier, Old English Wired Terrier e Pinscher. e fondamentalmente la versione tedesca è la versione tedesca del Fox Terrier, né più né meno. E lo stesso che, per chi è adatto a questa razza, equivale, cioè gli stessi discorsi relativamente a chi questa razza può essere più con coscienza indicata, sono gli stessi, gli stessi ragionamenti validi per questo discorso, sono gli stessi validi e detti per e-person, con tutti i pro e i conto ammessi. Questo è tutto per l'appuntamento di oggi, vi saluto e alla prossima.